Buongiorno, sono Andrea Delisio e sono stato ricoverato il 20 di marzo per il Covid qui all'ospedale Maggiore di Parma. La situazione da subito è stata molto critica, si era creato un clima di incertezza, i miei familiari non potevano vedermi a causa dell'isolamento, mia moglie, mio figlio, i miei genitori, mio fratello e devo dire che grazie alla benegazione e alla professionalità dello staff medico qui dell'ospedale ne sono uscito. Ne sono uscito dopo sei mesi, oggi conduco la mia vita normale come prima, ringrazio tutto lo staff medico e la sanità pubblica dell'Emilia Romagna.